Bentornati in Radio Design con il nostro format Radio Wine Design, la radio che dà voce al vino con la speaker Eli e il nostro docente di web marketing dell'Istituto di Design Italiano di Perugia. Oggi il grandissimo ospite Federico di Terre Margaritelli che ci ha ospitato ieri in azienda, quindi ci spostiamo nella denominazione di Torgiano e in degustazione abbiamo il vento rosa, l'avventura in rosa di Terre Margaritelli e io partirei subito con una citazione di Federico di ieri, così ti passo la palla e tu puoi semplicemente presentare l'azienda. La frase in questione molto molto bella è vi lascio il resto ma datemi un trattore. Penso che sia proprio l'incipit dell'azienda di Terre Margaritelli. E' così che in effetti nel 1948 nasce l'avventura della famiglia Margaritelli nel mondo del vino, proprio con questa richiesta specifica di Fernando Margaritelli che chiese e donò ai tre figli maschi l'azienda industriale in cambio di un trattore, un pezzo di terra e una topolina. Quindi insomma dedicarsi alla terra anche perché Terre Margaritelli è un'azienda storica di Torgiano che ha però diciamo alle spalle anche un grande grandissimo mondo che è legato al legno e poi vedremo poi nel finale di puntata collegarsi poi alle baricche, alle botti insomma sempre al mondo del vino. Quindi qual è il collegamento Terre Margaritelli e legno? Allora la famiglia Margaritelli come abbiamo detto più volte anche ieri e come diciamo sempre quando facciamo la nostra visita in cantina è una famiglia che nel mondo del legno ha rappresentato sicuramente un punto di eccellenza non solo nazionale ma anche internazionale e un fiore all'occhiello della nostra regione fondamentalmente. Le attività principali della famiglia Margaritelli nascono dalla gestione delle foreste in Umbria che li hanno poi portati a produrre attraverso i ferroviari e per dare maggior impeto a questa attività è stata aperta una segheria in Borgogna e da lì la crescita della conoscenza del mondo del legno e poi la nascita sui terreni. Poi peraltro dell'azienda neonata agricola Terre Margaritelli della Listone Giordano che in Umbria rappresenta appunto ancora una volta un punto di grande eccellenza. Quindi un incontro tra la terra e il frutto della terra che appunto sono gli alberi e poi il legno. Esatto, questo legame forte tra le radici fisiche delle piante e metafisiche della famiglia su questo territorio così... Pregnante a livello diciamo performante di culture e di culture anche perché comunque Torgiano è una cittadina medievale che se non ero si nasce sul fiume Chiascio se non è o se non vado errando. Adesso mi ha memoria di storia medievale. Io non lo so, quindi passa la palla. Passa il tevere vicino a Torgiano e proprio è quella zona di demarcazione tra le culture che hanno dominato l'Umbria, quindi tra i longobardi, gli etruschi, i romani. Insomma è stato in particolar modo appunto Torgiano, Miralduolo dove ci troviamo un crocivia che nella storia ha rappresentato un punto molto molto particolare. D'incontro, certo. Senti, oggi terra e margaritelli conta 52 ettari vitati, correggimi se sbaglio, 12 etichette che però vanno a identificare una marea di insomma di culture di vitigni, dopo ne parliamo magari nello specifico, però prima di arrivare al concetto di vino vorrei dare la giusta importanza al concetto di biologico che comunque voi avete il riconoscimento in etichetta, quindi di biologico, però tu ieri sei stato molto pregnante sul dare il giusto peso a questa parola che non è soltanto riuscire ad avere il simbolino in etichetta ma porta con sé una sorta di bagaglio culturale e culturale che riguarda comunque anche la sostenibilità non soltanto ambientale ma anche sociale ed economica. Tu ieri hai appunto parlato anche di network che si viene a creare fra le varie aziende di Torgiano, riuscire cioè a creare qualcosa che sia sostenibile per tutti, oltre che chiaramente il biologico e il terremargaritelli che persegue quelle che sono i dettami del biologico, quindi il sovescio e altre tecniche appunto riconosciute. Quindi com'è che vorremmo un po' tra virgolette sintetizzare questo concetto che poi si lega tantissimo anche a quello di riuscire a dare caratterizzazione ai vini, margaritelli? Sì, il concetto è molto, tra virgolette, semplice e complesso allo stesso tempo. Io purtroppo dico che oggi di sostenibilità se ne fa un gran parlare, il purtroppo è perché molto spesso si utilizza questo termine in modo un pochino troppo facile. La sostenibilità in realtà è un concetto molto esteso che ha un significato specifico, è quello di preservare le risorse per le generazioni future. Ecco. Quindi in questo il biologico sicuramente rappresenta un elemento importante, ma non è l'unico perché il biologico significa comunque gestire l'azienda agricola e la produzione di un prodotto alimentare con una riduzione importante di manipolazione del prodotto ma soprattutto l'esclusione completa di prodotti chimici. Però secondo noi non è sufficiente perché questo è un dettame che si può seguire. Il punto della certificazione per noi è il fatto che facendo questo tipo di attività, avendo impostato tutto lo sviluppo di terre margaritelli sul concetto di sostenibilità esteso, è ovvio che la certificazione è un punto di partenza. perché in tanti casi si sente dire io sono biologico però non mi certifico perché noi diciamo no, noi siamo anche biologici e ci certifichiamo, quindi ci sottoponiamo ai dettami e ai controlli del sistema, però facciamo di più. Accennavi del concetto di sostenibilità sociale, sostenibilità economica, i progetti sono belli se sono sostenibili, dal punto di vista economico significa dargli un futuro, cioè lavorare su un progetto perché persista nel tempo. È un investimento a questo punto. È un investimento, ritorno al concetto di sostenibilità, per le generazioni future. Cioè noi, ha visto, quando eravate in azienda, parlavamo anche poco fa, parlavamo del fatto che comunque noi cerchiamo sempre di coinvolgere le famiglie nelle nostre attività, i bambini. La prologo anche, mi accennavi. Le attività con le prologo, tutte le prologo del nostro territorio, quindi del Comune di Targiano, della Frazione Miralduolo, di Brufa, perché coinvolgere le persone del territorio significa renderli partecipi di quello che facciamo. I bambini sono fondamentali perché se puntiamo alla sostenibilità e quindi a preservare le risorse per il futuro, bisogna insegnare ai bambini a che cosa servono quelle risorse. e a rispettarle. E questo è un elemento che, secondo noi, non può essere scisso. Non può prescindere dal biologico. Perché altrimenti non... Perdo un po' di significato. Sì, insomma, per intenderla, biologico e sostenibilità, un po' come responsabilità formante anche a partire dalle generazioni dei bambini. Noi ci sono, ripeto, tutti i nostri eventi, il 90% delle nostre attività sono indirizzate alle famiglie. Noi siamo ben felici quando arrivano le famiglie con i bambini perché, ripeto, è un investimento sulle generazioni. Sì. abbiamo un evento specificatamente nato e dedicato ai bambini che è la vendemmia di Pinocchio a settembre che poi per la gioia dei grandi in realtà si è estesa. Eliana già si sta prenotando. Io, come ho detto prima, faccio parte della generazione dei bambini cresciuti. Esatto. Sì, sono invitata. Assolutamente sì. No. E quindi... Nicola, tu hai bambini, Federico, quindi magari se puoi organizzare anche per lui, non lo so... No, io vengo con il gruppo over 60. Va benissimo. Bene accetti. E quindi dicevo, questa, quello che dico sempre, quello che diciamo tutti quando abbiamo questi bimbi in vigna, è uno spettacolo perché, guardate, lo scorso anno abbiamo purtroppo dovuto dire di no a tantissimi bambini. Lo scorso anno avevamo un gruppo di 60 bambini praticamente in vigna a fare una pseudo vendemmia. Ma la cosa bella è stata che nell'arco della giornata nessuno di questi bambini ha mai preso in mano un telefonino. Ah. Per tutto il giorno. E la soddisfazione è quella appunto di dire alla fine della giornata se almeno uno di questi bambini per ogni anno decidesse un giorno di tornare e di abbracciare l'agricoltura, beh, allora abbiamo fatto qualcosa di veramente sostenibile. Assolutamente sì. Che poi, ecco, diventa anche, parlando in termini, tra virgolette, economici, di investimento, il biologico è anche quello, mi parlavi tutti, tempistica. Perché, ecco, il biologico non è curare nel modo giusto e non usando la chimica. Il biologico è non arrivare, tra virgolette, a curare. Nel senso che tutte le altre malattie della vite si tenta con cura, con attenzione, con presenza sulla terra di evitare queste malattie. Però è un investimento perché se c'è un'annata che non va bene, come mi dicevi tu, nel 2014 avete perso 10 ettari, giusto? Di San Giovese. Di San Giovese da vendemmiare. Esatto. E lì il discorso è molto importante. C'è il nostro agronomo Stefano che ha fatto veramente il concetto di gestione della vigna dalla vigna. E questo è l'elemento cardine del biologico, cioè cambiare proprio l'impostazione delle lavorazioni. In biologico non ti puoi permettere di arrivare alle malattie perché poi non esistono le cure. Quindi devi prevenire. La prevenzione si fa con la tempestività e la presenza sulla vigna. E questo è quello che fanno i nostri ragazzi in vigna. Il vostro modus superandi, anche perché mi dicevi il vino, io ho riportato tutte le frasi che ho detto virgolettate perché mi sono piaciute che il vino lo fa l'uva e se l'uva è buona si vendemmia, se l'uva non è buona quell'anno si pensa ai bambini per dire. Si sta a casa, fondamentalmente. Però Margaritelli allo stesso tempo voglio pian piano arrivare alle varie varietà insomma. Potremmo dire un laboratorio sperimentale su questo punto di vista perché vi piace ogni anno tentare la sorte diciamo così. per poi mettere qualcosa di nuovo sul mercato. Quindi ti lascio veramente parola perché questo è interessantissimo a mio avviso. Sì e quindi abbiamo un risultato immediato il nostro rosato è figlio di mille prove. Noi abbiamo sviluppato negli anni un'etichetta che si chiama Lab e quindi una bottiglia figlia all'interno della quale ogni anno mettiamo un nuovo vino un nuovo vino che serve a noi per capire se quel lavoro che abbiamo pensato che ci è venuto in mente in funzione della vendemmia è un prodotto un lavoro che può avere un futuro oppure no se abbiamo avuto un'idea farlocca un'idea buona fondamentalmente e il Lab appunto Venturosa è stato uno dei primi Lab che abbiamo prodotto è stato Lab 2015 e non a caso avremmo potuto fare rosato nel 2014 quando l'uva non era buona quando tanti produttori si sono avvicinati al rosato perché avendo dei problemi a livello di bucce fai un rosato senza contatto con le bucce quindi un po' di uva la salvi invece no noi l'abbiamo fatto nel 2015 quando l'annata era perfetta perché perché con l'uva perfetta fai il vino perfetto perfetto no la perfezione è molto soggettiva nel mondo del vino però diciamo che parti da una base sicuramente ottima e quindi il rosato che è un vino molto delicato nella lavorazione una pigiatura soffice noi utilizziamo la tecnica del pressurage quindi senza contatto con le bucce è ovvio che hai bisogno di un'uva particolarmente sana e il 2015 era veramente scolastico l'idea di fare rosato era quasi un obbligo dettato dalla terra insomma e la differenza rispetto a tante altre aziende le prove le fanno tutte le facciamo tutti quanti in tutte le cantine a noi piace condividerle sì e quindi questa linea lab nasce proprio per questo per condividere con i nostri amici le prove che noi facciamo poi come è accaduto con il Venturosa a volte diventano un'etichetta e poi quando il gioco ti prende la mano arrivi a 12 etichette non te ne rendi conto però 12 ma perché non 14 insomma Federico non mettiamo limiti alla provvidenza tanto come si dice ogni idea è un'idea buona no l'importante è anche quello di riuscire a mettersi in gioco sì a provare e a rinnovare anche perché questi poi sono investimenti scusate oggi uso la parola investimento perché c'era la parola del giorno vergognati scusate preferite dire un termine freddo no però stiamo scherzando troppo economico poi lui c'ha la laurea in economia quindi ci starebbe anche come quindi non posso usare neanche management no no ditemi una parola romantica il romantico della coppia è lui passione la passione la passione per le idee quindi mi ha portato a sono bravo però quando è così parli tu di passione io parlo di investimento oramai non ci sono più le donne anche l'altra volta abbiamo avuto un'altra ospite anche lì ho parlato di cose passionali l'amore poesia la terra il terroire invece lei parlava di cose molto tecniche devo sempre smorzare io i toni perché sennò si cade troppo nei tecnicismi allora chi è la giacca dei due? tu e quindi chi è seria dei due? io volevo fare il mic troppo ma non mi è riuscito questa anima rosa che fluttua sì no che poi noi oggi abbiamo scelto questo rosato uno perché è il vino preferito di Nicola perché ieri ha fatto la classifica è vero è vero ed è rimasto contento io sono la parte diciamo ignorante sul vino ovviamente vabbè alla fine noi vogliamo essere una radio per tutti quindi portiamo il vino per tutti e poi perché inauguriamo la stagione dei rosati che sono sempre questi vini un po' distrattati un po' maltrattati invece no i rosati sono belli io poi lo bevo tutto l'anno non è che aspetto il caldo insomma senti un po' Federico quindi queste 12 etichette nascono però da tantissime e tantissime varietà anche coltivate varietà non soltanto chiaramente della regione Umbria ma sono alla fine varietà ubiquitarie un po' tipo il Sangiovese lo Chardonnay fino ad arrivare il Fiano io sono rimasta contenta del Fiano perché sono campana quindi capisci che io sono Irpino quindi Fiano è roba nostra quindi perché la scelta di avere tutta questa varietà che sicuramente si collega al concetto all'idea passionale di prima che abbiamo detto di prima del rinnovarsi e di avere nuove idee però ecco quali sono perché la scelta e come vi siete trovati poi comunque ad avere queste varietà su un terreno biologico che poi fate la pratica del sovescio dopo ne parliamo allora il perché ritorniamo un po' alla storia dell'azienda nata appunto alla fine degli anni 40 in realtà l'azienda poi ha avuto uno stop importante dopo la morte del fondatore Fernando Margaritelli l'azienda è stata mantenuta in vita e ha continuato a produrre sempre uva da vino ma senza produrre più vino quindi vendendo tutti i frutti ad altri produttori e negli ultimi 15 16 anni che la famiglia ha ripreso la produzione del vino in mano quindi nel momento in cui si è deciso di riprendere in mano la parte produttiva ci si è posti noi nuovi forse è il caso che ci differenziamo studiamo un po' cerchiamo di capire cosa è questo territorio cosa può esprimere quindi quindi da lì nasce questa idea di impiantare su una nuova porzione dell'azienda di circa 20 ettari varietà completamente diverse degli amici che passano dice no 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 invitiamo tutti a bere il nostro venturosa oggi e praticamente nascono appunto queste questo campo così diversificato proprio per capire poi con il tempo ci siamo resi conto che questa diversità in vigna che è costituita da 16 varietà complessivamente 16 per 12 etichette ricordiamolo sì così vi divertite però attenzione più della metà del vigneto è coperto dalle quattro varietà tipiche locali Sangiovese Cannaiolo Trebbiano e Grechetto quindi la base è quella la base Umbra esatto e queste varietà poi nel tempo ci siamo resi conto che soprattutto nella gestione di un di un'azienda bio da quello che poteva essere un'esigenza iniziale di sperimentazione oggi a tutti gli effetti è diventato parte integrante nella nostra produzione che ci aiuta in quell'obiettivo importante per noi che è quello della personalizzazione dei nostri prodotti che sono legati sicuramente al territorio ma anche alle scelte aziendali quindi queste diverse varietà sicuramente ci aiutano e anche a dare un po' di continuità qualitativa ai prodotti perché nel biologico ovviamente le oscillazioni tra un'annata e l'altra sono molto importanti avere tante varietà che un po' ti aiutano a gestire in modo sempre partendo appunto dalla vigna a gestire un po' queste oscillazioni nei cambi di stagione quindi oscillazioni anche climatiche sotto questo punto di vista ci sono annate più aride annate più bagnate annate più solari annate meno solari ogni annata è un vino a sé insomma esatto quindi questo è fondamentalmente di queste 16 varietà appunto se togliamo le 4 principali abbiamo 20 ettari divisi su 12 per cui capite che sono piccolissimi ampezzamenti tant'è che poi quando chi viene in azienda vede che fondamentalmente eccezione fatta per un vino che è un classico taglio bordolese tutti gli altri hanno basi trebbiano grechetto in purezza quattro basi di San Giovese San Giovese rosato in due versioni parliamo di territori in modo molto assolutamente anche perché quest'anno sono 51 anni giusto della Doc Torgiano quest'anno sono 51 anni lo scorso anno abbiamo festeggiato il cinquantennale lì alla regione esatto c'ero anch'io e stiamo ci stiamo preparando per il trentennale della DOCG della DOCG che è del 94 90 se non erro 2020 30 invece del del Sagrantino del 92 io mi ricordo queste date no Torgiano è stata la prima DOCG dell'Umbria e una delle prime 5 in Italia in Italia quindi eh no fa la differenza perché a volte è un pezzo di storia importante della moderna etnologia italiana e di tradizione allora prima avevo accennato al sovescio quindi voi avete cereali e leguminose sì un mix delle due che aiutano quindi la terra in questione di azoto e di humus insomma questo riciclo ricreare humus naturale e assorbire azoto dall'aria e dall'aria ok e poi volevo di nuovo porre l'attenzione sul concetto di legno perché ieri mi accennato diciamo riduttivo alla foresta di Bertrasio dove voi avete praticamente l'approvvigionamento di legno di margaritelli sì fondamentalmente la segheria di cui avevo accennato poco fa è ancora esistente la margaritelli Francia come attività principale appunto quello di essere una segheria di legni duri una delle più importanti in Europa e grazie a questa attività abbiamo avuto la possibilità di partecipare a una ricerca molto importante e unica nel suo genere grazie alla quale siamo riusciti ad identificare le caratteristiche personali dei legni rovere provenienti da diverse foreste della Francia e la nostra scelta non è stata appunto in quanto azienda della famiglia margaritelli non poteva essere quella di dire scegliamo delle botti di rovere ma siamo andati a scegliere non solo la nazione di provenienza del rovere quindi la Francia ma all'interno della Francia siamo andati a provare le diverse foreste per scegliere quella che più performante per i vini per lo stile che noi ricercavamo e quindi siamo ricaduti sullo scegliere la foresta di Bertrange una foresta in borgogna meravigliosa caratterizzata da rovere bianco dalla grana fine ma meravigliosa anche perché è una delle prime foreste che in Francia hanno iniziato a tra virgolette coltivare si parla proprio di registrazione delle piante e questo a Bertrange accade intorno al dodicesimo secolo grazie a Mona Cistercensi quindi una storia importante ed è per questo poi che Bertrange ha questa grana così fine perché grazie a queste lavorazioni e continuo rinnovamento delle piante che ha portato ad avere uso un termine un po' tecnico un sesto di impianto più ristretto quindi una densità portare poi portiamo un po' di poesia dai Nicola aiutaci perché una densità per ettaro molto fitta di queste piante che grazie a questo lavoro sono cresciute in altezza e però molto lentamente quindi un rovere più resistente qualitativamente con dei rami sviluppati ancora più in altezza quindi la base più importante e più pulita e per questo così ricercata a noi è piaciuto molto proprio perché la grana fine fa sì che l'ossidazione del vino in affinamento si abbassa e il fatto che si tratta di rovere bianco a un tannino poco invasivo e quindi rispettiamo in modo più il varietale dell'uva esatto Nicola domanda che cos'è il varietale noi facciamo così ad ogni puntata Nicola ci ecco fa il varietale l'insieme di quei profumi quei odori che sprigionano gli elementi del vino sono rimasto molto vago per non sbagliare ho sbagliato lo stesso prima del vino esatto l'uva gli elementi del vino sono professor Federico non doveva aiutarlo ma io non sono un professore sono un studente anche pessimo quindi sono molto portato a copiare e lasciar copiare però per quanto riguarda il terroir ovviamente dai vuoi dire facciamo dire il terroir ecco no basta altro giro altra domanda ragazzi no vabbè ieri mi avevi detto che servivano 15 giorni per parlare delle etichette però ce la fai 15 secondi ma giusto dare una bagnatura di come la vostra testa è enorme perché avete delle idee fortissime siete continuamente in movimento dico una macchina la cosa interessante ultimamente questa battuta l'ho ripetuta in più di un'occasione mi sta piacendo molto e il fatto che comunque per struttura il mondo del vino è un mondo un pochino statico perché comunque se produciamo una volta all'anno e quello ce lo teniamo tutti gli anni quindi al massimo puoi cambiare una cosa una volta all'anno e normalmente alcuni vini ti teni anche più anni per cui è molto lento il cambiamento e noi invece stiamo cercando di essere un'azienda dinamica per cui siamo un po' così forvianti dal dall'usuale e la linea lab sicuramente ci aiuta molto perché uscire sempre ogni anno con un video nuovo inatteso è abbastanza inusuale però è la prima volta che per quanto che io ne sappia succede una cosa del genere sì ci sono altri esempi no c'è chi ha sperimentato però sono Gianni che ha sperimentato su quella cosa ed è rimasta tra virgolette varianti dello stesso anziché una cosa nuova invece ogni anno qui abbiamo Terri e Margaritelli che si spremere i mini e ti dimentico cosa devo fare ma guarda in realtà il processo del lab è ancora più semplice di quello che può sembrare nel senso che fondamentalmente c'è un giorno in cui ci incontriamo panel tutti quanti così perché pre vendemmia no con passione aggiungere sempre con molta passione io posso mettere uno tecnico come termine un brainstorming del vino brainstorming vi briefate vi briefate inglesismi no oggi bocciatissima ragazzi io do le dimissioni e mentre si ragiona della vendemmia proprio prossimi alle vendemmia sulle quantità da vendemmiare le varietà come sta andando come la maturazione ipotesi sul giorno d'inizio assaggiamo gli acini eccetera e in quel momento uno di noi dice ma perché certo che quest'anno con questo Sangiovese un rosato sarebbe perfetto tac l'Hub 2015 e così è quest'anno uguale Traminer Traminer era un vitigno difficile da vendere perché matura molto precocemente ovviamente qua e quindi assaggiandolo quest'anno era molto buono abbiamo detto ma perché dobbiamo spericolarci cercare proviamolo facciamo un lab e vediamo che succede Traminer impurezza fatto così esatto e questo è il lab 2018 e quindi così come fu il Simone de Brion il canaiolo lì ha boccato sì l'altro mio prefe anche lì l'Hub 2016 nacque in questo modo il canaiolo stava maturando bene nonostante una stagione un po' difficile stava bene in vigna grappolo sparcolo aperto quindi non soggetto alle muffe teniamocelo un pochino di più vediamo e da lì questo rossido zuccherino molto potente quindi vendemmia tardiva non tardiva un pochino ritardata ma non tardivina tardivina bella questa è mia è mia no no perché l'idea lì per lì non era quella del vino abboccato e poi dopo parlando con alcuni delle persone che vengono ad aiutarci tra cui un meraviglioso vecchietto della zona poesia qui c'è poesia lacrima piango ci disse ma sai perché qui c'era una cantina una volta e facevano la cannaiola quel cannaiolo dolce con il residuo cerino tac lab 2016 e intanto abbiamo parlato di tre etichette questa cosa spieghiamola bene perché secondo me non l'abbiamo spiegata subito cioè lab è l'esperimento che poi prende nome che poi dopo esatto nel 2016 questo cannaiolo poi gli è stato dato il nome è diventato appunto Simone de Brion che è un nostro vino da diciamo fine pasto ma in realtà è un po' riduttivo perché può essere utilizzato io l'avrei messo bene anche vicino alla carne perché comunque non è un vino passito è un abboccato leggerissimo residuo zuccherino questa nota molto fresca del cannaiolo finale amaricante che non dà fastidio equilibrato da questo leggero zuccherino e queste note floreali fantastiche del cannaiolo quindi anche lì è andata così poi le etichette parliamo di quelle un pochino più importanti sicuramente parliamo del Torgiano Rosso Riserva quindi freccia degli scacchi la maggiore espressione per noi del nostro territorio un Sangiovese in purezza che fa un affinamento di 18 mesi sulle barrique praticamente nuove di rovere bianco della foresta di Bertrage e poi un affinamento in bottiglia oggi possiamo stappare il 2015 che abbiamo assaggiato ieri che poi vorrei dire qualcuno dice nelle barrique nuove ma non temi che il tannino della barrique ti vada a caratterizzare no perché abbiamo detto che è rovere bianco a grana fine quindi l'abbiamo degustato ieri vi avviso che abbiamo degustato un Sangiovese bellissimo bello ancora fresco quindi hai voglia di anni che ancora poteva fare in bottiglia con tutti i rimandi al baritale dell'uva e con quella leggera speziatura che cominciava a sviluppare con i terziari quindi assolutamente non c'era un tannino preponderante lasciatoci dal legno non si sentiva per esempio la vaniglia insomma tutti quei marcatori di un legno nuovo cosa sono i terziari? vado? prego sono praticamente quei sentori che si sviluppano quando c'è un passaggio un lungo passaggio in legno del vino insomma tu hai quelli primari che appunto ricordano un po' i floreali la frutta con i terziari comincio a sentire le speziature magari gli eteri che possono anche variare con il sentore di pelle di cuoio di cacao polvere di cacao polvere di caffè beh potremmo stare a parlare a Gianciscale per ore mentre invece il rovere di Bertrange si caratterizza per dei sentori terziari legati alla nota speziata quindi questa nota di anice di eucalipto cardamomo essiccato esatto molto molto comunque tendente al fresco sì 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 assolutamente sì sì io direi di passare alla degustazione perché abbiamo dieci minuti ok passiamo alla degustazione di Venturosa la nostra avventura in rosa di Tare Margherita e le ragazze passiamo la linea al nostro TG sto scherzando allora perché abbiamo scelto questo qui l'abbiamo l'abbiamo già detto inauguriamo la stagione dei rosate abbiamo un San Giovese in purezza questo è 2018 giusto io ecco passerei direttamente alla degustazione perché ah qualcosa da aggiungere mentre vi faccio vedere il calice sull'etichetta che qui vedo un compasso di quelli antichi c'è qualche rimando questo è un compasso perché appunto come scusate come abbiamo detto Venturosa è la nostra avventura in rosa e in quanto avventura avevamo bisogno di uno strumento di navigazione per non perdere la rotta e quindi il compasso come strumento di navigazione poi sia anche questo è contento oggi c'è tanto romanticismo Nicola sei contento? sono molto emozionato intanto mentre prego vai vai io farei vedere sia qui e i nostri spettatori in linea il nostro rosato e allora ragazzi il colore è bellissimo è un rosa tenue avete presente la buccia di cipolla esatto il colore non lo dure ragazzi il colore molto bello molto vivace molto luminoso veramente bello già già dal colore al naso io sento molta freschezza che mi rimanda chiaramente floreale fruttato e molto erbaceo non lo so se è perché ieri poi l'abbiamo degustato in accompagnamento in abbinamento ma io sento anche l'odore dell'erbaceo della fava sai quando la si sbuccia e senti quell'odore un po' anche un po' resinato un po' fresco una fragolina di bosco un'erbetta aromatica molto bello molto elegante al naso io come sempre degusto il microfono e non degusto il calice arrivato a questo punto vai mentre voi degustate intanto molto belle le litichette ci hai raccontato anche ieri la storia che c'è dietro il logo che richiama in qualche modo sia un luogo dove diciamo ci si ritrova quindi un tavolo giusto però richiama anche a quell'oggetto che usano i sommelier per degustare il test de verne il test de verne il test de verne è un termine francese quindi test di vino sarebbe sì la prossima volta se vuoi lo porto solo che fa casino quindi non vorrei urtare la tua sensibilità auditiva ecco l'audio è importante quindi con molta poesia lo puoi portare e trattarlo delicatamente aspetta ecco il test de verne eccolo lì queste palline qui infatti il logo sei andato a vedere di terra e margherita le richiama molto ed è stata una casualità di aver detto sì quella del test de verne non era ricercata è uno studio fatto partendo appunto dal nome margaritelli e l'origine margherita e il tavolo rotondo che racchiude quindi tutta la famiglia intorno senza nessun capotavola e poi guardandolo io è ritrovato subito il test de verne appassionato ritrovo subito il legame al mondo del vino il test de verne quindi diciamo che metteva insieme tante cose metteva insieme il territorio la famiglia e il vino intanto Eliana è in modo molto poetica si è radunata su se stessa per sentire tutti gli odori del vino allora per il corso di comunicazione mi hanno detto che se sto così mi chiudo al pubblico quindi no così va bene mi sto aprendo al pubblico puoi anche alzare le mani tutto il tempo allora per quanto riguarda al palato no dai il palato è bellissimo è avvolgente richiama molto il sangiovese questa nota floreale di rosa canina fresca ancora ancora un fiore ancora fiore fresco tanta freschezza è un finale leggermente sapido che non dà fastidio ma anzi aiuta a ripulire il cavorare io direi che è un vino davvero da accompagnamento di un pasto estivo che può essere una zuppa di legumi magari correggimi se sbaglio o magari ieri abbiamo degustato con una torta al testo gli spinaci della mamma Margheritelli che ragazzi top è stato un sogno un sogno andate da Margheritelli anche perché tra due settimane c'è terre c'è terre aperte cantine aperte 25-26 maggio non perdetevi questo grande evento in Umbria dove le cantine aprono la loro storia al pubblico si raccontano fanno degustare fanno mangiare è fondamentale secondo me mangiare insieme a bere sono d'accordo senza cibo non si beve la poesia c'è quando c'è il vino abbinato al cibo aggiungerei io ma io direi che possiamo chiuderla qui ragazzi no davvero e niente io per me sono contenta così se Federico vuole aggiungere qualcos'altro sulla storia di questo rosato di questa avventura in rosa che a questo punto è piaciuto al mercato no mercato non va bene è piaciuto agli appassionati agli amici ai wine lovers e company influencers bloggers tutto il resto e quindi è diventata etichetta quindi io l'unica cosa che aggiungerei è veniteci a trovare in cantina per provare direttamente l'esperienza dei nostri vini assolutamente anche perché ragazzi già all'arrivo è suggestivo da Tere Margaritelli noi siamo andati ieri abbiamo beccato il sole è una salita sembra un po' verso l'Eden oddio così sembra qui stai mettendo molta poesia vai continua questa salita verso l'Eden costeggiati da questi vitegni verdi bellissimi 52 ettari meravigliosi di poesia verde è vero è molto bello molto bello l'ingresso molto suggestivo trovarti in pieno contatto con la natura una volta arrivato lì avere Federico che ha una passione smisurata permettimelo di dire non è una sviolinata gratuita ma davvero con tutte le realtà è bello vedere tanta passione tanto studio tanta anche tecnologia comunicativa a me è piaciuto anche tantissimo il diciamo l'interior design adesso aggiungo le parole visto che siamo l'istituto di terreno design è bellissimo tutto il legno il parquet che c'è insomma è bellissimo anche i mattoni all'esterno gli interni la prima cosa che mi ha colpito appena sono entrato è bello molto bello anche gli interni quindi davvero bello e poi l'accoglienza direi che è unica per il panorama che conosco io che non sono un grande esperto poi magari Eliana mi può correggere ma è stato veramente bello piacevole molto familiare aggiungerei molto familiare quando vai lì e ti senti tranquillo ti senti parte del tutto dici bene ho vissuto una wine experience davvero suggestiva l'inglese di Federico grazie ragazzi quindi davvero grazie Federico per averci accolto ieri grazie per questa esperienza unica mi raccomando non perdetevi Tere Margaritelli località di Torgiano Miralduolo e l'evento di Cantini Aperte 25-26 maggio poi già sulle pagine sono pubblicate i programmi grazie per averci ascoltato per averci seguito grazie a tutti chiudiamo con l'invito a seguire ovviamente sia la diretta su Facebook su Radio Design poi anche sull'Istituto Italiano Design ritrovate questo video su YouTube e poi in audio in podcast in alta qualità per chi ama sentire l'audio come me il podcast su Spreaker su Spotify su iTunes su tutte le piattaforme digitali e niente è questo seguite Eli on the road su Instagram Nicola per altre cose non seguite Nicola perché sennò vi stalkerà seguite Tere Margaritelli esatto Tere Margaritelli trovate tutti i riferimenti sia Instagram che Facebook e quant'altro va bene posso fare una sponsorizzazione velocissima hai 30 secondi ci sono anche dei miei amici che nelle Marche questo weekend avranno un evento gli amici sono Wine Salad che presentano un Sangiovese fatto anche loro in rosato il progetto si chiama De Viango e è una nuova etichetta di 5 ricordo insomma di aziende che fanno questo rosato di Sangiovese quindi ecco volevo fare pubblicità per loro Wine Salad De Viango e il mio amico Roberto Geminiani che appunto presenta questa nuova etichetta grazie ciao Ciao